Tornerà a riunirsi domani pomeriggio alle 16 l'Assemblea regionale siciliana per continuare l'esame della riforma delle province. La legge ormai da settimana in aula prevede l'introduzione dei nuovi enti intermedi, ovvero i liberi consorsi dei comuni e le città metropolitane. Durante l'ultima seduta è arrivato il via libera ad altri due articoli, ovvero il quinto e il sesto. Il numero 5 disciplina l'elezione di secondo livello dei presidenti dei liberi consorsi e le modalità di sfiducia. I vertici saranno eletti da consiglieri comunali e sindaci delle amministrazioni che aderiscono ai consorsi. A disciplinare la composizione delle giunte invece l'articolo 6. Gli organismi potranno essere composti da un numero massimo di otto assessori e la loro carica sarà legata comunque al sindaco del comune di appartenenza. Se infatti questo dovesse decadere dalla carica lo stesso accadrebbe ai componenti della giunta inseriti all'interno del consorzio. Da domani però si aprirà uno dei capitoli più spinosi della riforma ovvero quello che riguarda le città metropolitane. Nei primi giorni dell'esame della riforma il governo era stato battuto con l'approvazione a voto segreto di un sub emendamento di Forza Italia che aveva cancellato parte del comma 2 dell'articolo 1 che rendeva di fatto le città metropolitane parte dei consorsi dei comuni. Una bocciatura non complessiva dei nuovi enti certo ma comunque uno stravolgimento rispetto ai piani iniziali. D'altronde istituire le città metropolitane un altro articolo della riforma ovvero il numero 7 e proprio questo sarà affrontato da domani in aula un vero e proprio banco di prova per la tenuta della maggioranza e del governo.